Di stretta attualità questa mattina ci ha lasciato l'ex presidente Ciampi, lei è stato molto duro? Cordoglio, umano, pietà umana, pensiero alla famiglia, politicamente parlando è uno dei responsabili della disastrosa situazione italiana di questo momento, con i napolitano, con i prodi, con i monti, quindi il cordoglio e la pietà ovviamente sono sempre e comunque per chiunque scompaia, le responsabilità politiche non vanno dimenticate. Ma è stato tra i più amati? È stato uno degli artefici della svendita della sovranità italiana e quindi probabilmente era amato ai tempi, non so quanto possa essere amato oggi, visti i suoi trascorsi da governatore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio e da complice di un'Europa che ci ha massacrato, quindi il minuto di silenzio si deve a tutti senza dimenticarsi le cose buone, gli errori commessi e gli errori sono stati tanti.